Il piatto di oggi è un secondo piatto a base di carne, reale di maialino cotto a bassa temperatura per 36 ore, servito con patate al forno e ratatouille di verdure di stagione. La scelta di questo piatto è dovuta al fatto che il taglio del collo di maiale è molto legato alla tradizione veneta. Una cottura molto lenta a bassa temperatura fa sì che tutti i succhi di cottura restino all'interno delle carni e quindi che risulti molto morbida il palato. Il sapore finale è poco marcato dovuto anche a una nota dolce che viene inserita nei sacchetti sottovuoto per la cottura di questo taglio. Grazie per la visione!